Il botto è stato fortissimo, tutto è successo in piena notte a Pieve al Toppo nella zona industriale dove c'è il Bancomat della Chianti Banca. Trafugati circa 20.000 euro, si sospetta che i malviventi abbiano azionato un comando a distanza facendo defalgrare il detonatore con il gas. I danni all'interno della vecchia filiale sono stati ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Arezzo con quelli del locale stazione di Badialpino. Questa mattina la struttura è stata coperta da un cellofan che ha nascosto la falla che è stata prodotta dall'azione criminale quello di Pieve al Toppo fa seguito a quanto successo la scorsa settimana a Castiglionfibocchi. In Valdichiana negli ultimi anni sono stati colpiti numerosi uffici postali. Gli inquirenti stanno cercando tracce utili. Si sospetta che sia una banda di specialisti che agisce su tutto il territorio nazionale. scelgono posti isolati da dove è possibile scappare e fare perdere bene le loro tracce.